ciao ragazzi bentornati nel mio canale mi raccomando lo ripeto sempre iscrivetevi e attivate la campanellina se non l'avete ancora fatto scusate il video un po buio ma sto con la luce accesa in macchina e è così mi ha preso di fare un video in macchina non c'è un problema importante che capite il concetto dunque per avere la vita che voglio devo saper fare scelte che non voglio vi spiego questa frase potrebbe creare un po di confusione ultimamente ho realizzato che molte persone la maggior parte delle persone della gente immagina che la vita che una persona desideri sia fare tutto ciò che si vuole che apparentemente potrebbe anche c'è c'è un senso no certo se io faccio tutto ciò che voglio ho la vita che desidero purtroppo però non è proprio così perché la vita diciamo che si diverte un po con noi no perché se io faccio tutto ciò che voglio siccome ogni azione ha una sua conseguenza ci sta che delle tante azioni che faccio qualche conseguenza non sia quella che io desideri ok e quello che potrei ottenere è che creo situazioni intorno a me di qualsiasi genere con le persone di rapporti che vanno un po in contrasto con quello che io vorrei ok diciamo che se io volessi per esempio una vita serena tranquilla paciarotta passiatevi il termine no pacifica ok e agisco liberamente a ruota libera quindi mi tolgo tutti gli spizi eccetera eccetera ci sta che involontariamente a qualcuno questo dia fastidio in questo momento ho qualcuno a cui magari molto probabilmente sono affezionato e voglio bene che è infastidito dalla mia libertà di scelta la mia libertà di movimenti no eccetera eccetera ecco che questo però non è quello che io desidero io voglio poter fare quello che voglio ma non sono risposto a pagare le conseguenze ed è in questo in questo conflitto che che molta gente vive in questo conflitto dove molta gente purtroppo vive in uno stato di confusione ok esempio se io voglio perdere peso seguitemi e non dovete convenire per forza con me se io voglio perdere peso e per qualsiasi motivo o pretesto mi trovo a chiudere un occhio no perché magari una cerimonia un compleanno eccetera eccetera qualsiasi cosa no quindi mi trovo a chiudere un occhio e mi strafogo quindi bevo di tutto mangio di tutto ok ci sta l'indomani la mia bilancia magari segni più mezzo chilo giusto ci sta e quindi sono infastidito e ecco quindi si realizza la frase che ho detto quindi ok quindi se si fa tutto quello che si vuole non è per forza quello che do più desidero ok la conseguenza azione conseguenza il paradosso è pretendere di fare ciò che si vuole e non prendere però le conseguenze quindi non pagare il prezzo della conseguenza quindi il bivio è decidere se fare quello che voglio o avere la vita che voglio ok posso dire tranquillamente che il no anche il 99,9 per cento delle persone non è pronta a pagare il prezzo della libertà ritornando all'esempio della festa io posso tranquillamente mangiare di tutto si posso farlo però magari con discrezione con no assaggi un po qua un po la però non mi strafogo ci stacca la bilancia anziché per segnarmi l'indomani c più mezzo chilo segnerà più netto oppure addirittura nulla quindi c'è modo e modo di fare le cose no e quindi domandatevi sempre domandatevi sempre qual è la mia priorità qual è la mia priorità ok riflettete e meditate su questo e ricordate che per avere la vita che voglio devo fare scelte che non voglio ragazzi in bocca al lupo per tutto